ben trovati amanti del mistero in questo nuovissimo episodio della mia serie reaction a crime il delitto perfetto ragazzi scusate come state spero tutto bene e non mi ricordo cosa volevo dire ah sì ecco siamo sul settimo episodio della serie di crime allora ragazzi vi sta piacendo spero proprio di sì ma anche perché ragazzi questa è una cosa che a me ha sempre mi è sempre piaciuta questa questa cosa di delle serie quelle crime quelle tipo crimini mi sono sempre piaciute e infatti questa serie mi sta piacendo e siamo solo al settimo episodio ragazzi sono 13 episodi 13 non mi ricordo comunque sono più di 10 episodi e dobbiamo finirli tutti e più in avanti dopo quando avrò finito questa questa serie farò la serie della reaction a crime l'essenza di tutankamon che è tutto diverso da da questo quindi e tra l'altro i beat hanno detto che molto probabilmente uscirà un crime 3 e quando hanno detto questa cosa io ho avuto questa reaction prima di iniziare ricapitoliamo cosa è successo nell'episodio 6 allora dopo aver capito che effettivamente qua dentro dentro la villa Levine non può esserci un demone perché non succedono atti paranormali i pit Gianmarco e Pimoth cosa pensano di fare fanno una specie di rituale fuori dalla casa dentro nel giardino e Gianmarco si sacrifica per evocare un demone e loro lo evocano all'interno della casa infatti quando tornano dentro la casa il salotto è completamente devastato ma non è tutto Debbie ha saputo che il tizio che è entrato dentro la casa ha portato via un libro un libro chiamato è il crimen perfetto scritto da una certa Valerie Lopez una scrittrice che ha scritto questo libro e che questa storia parla di un omicidio di tre ragazzi morti in circostanze ancora sconosciute tre ragazzi molto giovani e non si sa di preciso come o con cosa qual è stato il movente dell'omicidio per ora non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo ma prima di iniziare ovviamente sono io devo fare un rituale ora devo andare davanti allo specchio dire tre volte non bloody married non bloody married devo dire youtube anche io perché lo devo evocare per dire queste parole mi raccomando like and subscribe allora ragazzi ora non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito in descrizione nei canali dei ragazzi come sempre è la playlist dove potete trovare gli altri episodi della mia reaction a crime andiamo preparatevi io intanto mi preparo con gli schiaffoni in mano perché se c'è qualche demone oh mi preparo già eh sentite raga continuiamo ok ah quando sono usciti fuori avevano trovato una corda di un cappio cioè avevano trovato una corda come se qualcuno si fosse tolto la vita cioè impiccato fuori dal coso c'era stato uno dei ragazzi che era stato trovato morto impiccato però non si sa esattamente per cosa siano morti questi poveri ragazzi erano tre ora andiamo avanti forse è stata giusta non so dove finiremo ma continuiamola ma per me fate allora l'unica cosa certo continuate 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 mi pare ovvio avete evocare state per evocare un demone in casa vostra e state sbagliando strada voi e voi e voi continuate beh una cazzata aspettate che vado un attimo qualche cosa ok ma è una signora signora ha bisogno cosa fate qua ma saranno ci ha chiamato la suoi scusi cioè adesso cosa fate qua ma stiamo facendo un campeggio cosa stiamo facendo signora venite perché forse la casa e paolo vogliono spiegare che cosa state facendo vogliono spiegare spiegata da fantasmi no qui non c'è nessun fantasma qui regna solo tristezza e paura ma solo a me sta signora mi fa un pochettino inquietudina cioè non vorrei essere sincero ma ma poi tra l'altro che ore saranno cioè per me saranno le dieci di sera perché certo perché qui molti molti anni fa hanno trovato i corpi di tre ragazzi morti in circostanze misteriose cosa aspetta aspetta una ma nel ma io ho detto prima tre ragazzi o quattro non mi ricordo se erano quattro o tre penso quattro non lo so penso quattro e non si sa bene tutto il paese conosce questo mi ricordo dentro la casa dentro la casa ma la padrona non ci ha detto niente ehi va a rotea stale sta per allora sta Levine a me mi puzza un pochettino il culo aspetta no non mi puzza vabbè scusate però sta signora Levine per me nasconde qualcosa per me poi non so perché la padrona dice che è quanto pare infestata ma non ci ha mai detto che c'erano dei morti tre persone morte guarda un po' giovani ma scusa ma chiediamo qua il personale della casa non ci ha mai detto niente chiedilo al proprietario al tizio che è dentro da un mese nessuno ci ha detto niente qui non c'è mai stato nessuno sono anni e anni che non c'è nessuno ma allora che ma allora la proprietaria ha raccontato un casino un casino di cavolate non c'è il personale nessuno la casa è vuota da anni ma allora la signora Levine ha raccontato delle mie ma sta psycho da quanto ci guardava ma sta psycho Gianmarco ma poverina secondo te è normale cioè tutto quello che abbiamo visto è normale no ma per niente io guarda questa qui ci stessi incontrato da molto tempo chissà quanto tempo che hai lì eh per me è una stalker è una spia perché senza e che cacchio si è messa a dire metti che anche la verità metti che la verità qua dentro c'è morto veramente qualcuno beh ma va cioè ora al di là di tutto come fa una casa che non ha dentro né personale la proprietaria dice è infestata ma in realtà non c'è dentro nessun nessun demone niente poi arriva una una vicina di casa psycho che dice che dice eh ma e dice qua dentro non c'è niente non c'è niente né personale né niente e anche non si affettuano strani fenomeni paranormali ed è veramente strano poi vi parla di una di morti di tre ragazzi nonostante voi avete letto la trama del libro è il crimen perfetto ma tu ti rendi conto se vuoi io mi vieno a dire se fosse la verità ho il più graffato l'amica te lo viene a dire ma appunto te lo viene a dire non vi ha detto niente vi ha detto solo cari amici del pit la mia casa penso che sia infestata ci sarà il personale bibidi bobidi boo per farvi capire la cosa non ha detto né morti né niente era un po' di pudore raga io ho fatto delle ricerche questa mattina come vi ho detto ecco sentite le parole mancanti avevo trovato anche dei numeri su quella copertina che subito non si vedevano 7 e 9 7 e 9 1979 era la cosa mi è uscito fuori un libro il libro si chiama è il crimen perfetto esatto e la scrittrice guarda caso e valerie lopez quindi un libro esiste esiste e caso strano quelle lettere coincidono con le lettere trovate sulla copertina guarda caso ma la copertina c'era la foto la copertina non l'ho visto ho letto solo ho proprio cercato volevo vedere che esiste sul libro è come è come un intrigo cioè è un enigma cioè è un enigma questa cosa ok ha preso sto libro quindi aspetta io ho letto la trama solo ok ho letto la trama sentite ragazzi voglio capire di che cosa parlava questo libro ragazzi questo libro parla della morte misteriosa di quattro ragazzi che hanno ok quattro ok quattro allora non mi sono sbagliato prima ho detto tre non so come mai poi ho detto quattro c'è di là se posso dire la verità è questa e guarda caso la ragazza cioè la ragazza la donna ha detto tre ragazzi guarda caso nella vita reale sono quattro cioè nel libro sono quattro e guarda caso è come è successo nel libro tre ragazzi morti in circostanze strane e nel libro sono quattro e certo che sta Levine ne spara di cazzate ed è Mattia Paolo Gianmarco e Debbie e Pimot provano a chiamare la signora Linda Levine per vedere se provano se effettivamente risponde per dargli una spiegazione di qua c'è di pena che sono morti dei ragazzi c'è qualcosa che non quadra ce lo stiamo inventando ma che ce l'ha detto comunque una persona che vive qui appunto cioè sentiamo vediamo se risponde stiamo trasferendo la tua chiamata ma non risponde guarda caso non risponde l'altra volta aveva risposto e aveva detto ah io non ne so niente non ne so niente non ne sai niente ma vattene affan sbagliata ed è giusto che paghi ma vattene affan ok l'ambulanza l'ambulanza che diamo raga ma è la vicina la signora soffre della sindrome del tramonto orco 2 sindrome del tramonto per chi non sapesse cos'è la sindrome del tramonto ragazzi è una sindrome che pratica è una specie di non so come dirvelo una specie di vizio questa signora praticamente esce di notte sta lì fino a mattino e magari dorme anche fuori e il marito forse l'ha ritrovata questa mattina il marito si è svegliato l'hanno trovato in casa e ha chiamato un po' ragazzi la faccia da psycho però ce l'ha non per offendere però ragazzi la faccia da posseduta dal demonio neanche l'esorcista molto probabilmente farebbe invidia farebbe paura anche a ciccio gamer 89 non ci riesco Mirko dove vai no perché scappi va bene è scappato se vi dico raga che mi sono venuti i brividi e anche Paolo dalla faccia non mi sembra tanto sicuro c'è raga ho la pelle d'oca ha detto scappate madonna ma per me non è normale raga ma non è normale ok se ne è andata quella con il sintomo del tramonto comunque raga è tosta ma sono tutti d'accordo scappate fuori questo mi rendi conto scappate ma è tutto scappate è proprio un sguardo tipo andatevene altrimenti vinco sono sconvolta ok debbi e in questi giorni sono sconvolta ma guarda pure io sono sconvolto da quello che è successo ora ma sto giro più delle altre perché ho continuato a fare delle ricerche cos'è successo scoperto che la signora la vicina anziana forse non ha detto proprio delle cavolate se quello che quindi quella cosa che ha detto sui tele ragazzi è vera sto leggendo è vero ma penso di giornale articolo quindi sono giornalisti si parla di polizia si parla di inquirenti nel 1974 guarda caso guarda caso anni 80 anni 70 proprio come proprio guarda caso come Valeri Lopez ha pubblicato nel 79 5 anni meno proprio qui sono stati ritrovati i corpi di tre ragazzi orco due sono tutti ragazzi morti suicidati quindi si sono tolti la vita no ragazzi guarda caso nel libro di Valeri Lopez si sono suicidati e si parla di Paolo Oliverani Emanuele Faggiano e di Vario Giusti ok si dice anche che ci fosse un quarto ragazzo ok di nome Patrizio Luccherini ok ma è tuttora scomparso ok quindi non è stato ritrovato praticamente il corpo allora voi mi potrete dare della pazza mi potrete potete pensare tutto quello che volete ma no Debbie ma no ma chi ti ma chi ti pensa pazza guarda che io ci credo di me di me che sto e danno un po' fuori di testa ma no Bebora stai tranquilla fissando troppo su tutta questa storia ok però ascoltate un attimo sentiamo no 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 vogliamo sentire questi ragazzi sono stati trovati morti ok ok esattamente come nel libro come nel romanzo di Valeri Lopez scusate sì ok da una parte sono tre dall'altra sono quattro sì da una parte sono tre dall'altra sono quattro ma se l'altro è stato dato per disperso ma la cosa che mi ha dato da pensare è questa cioè raga ascoltate i nomi sì Paolo Liberani Emanuele Faggiano Emanuele Faggiano Eilario Giusti E poi il ragazzo scomparso Patrizio Luccherini e ascoltate i nomi del romanzo invece quelli inventati ok da Valeri Lopez ok Patrick Longo Ivan Greco Peter Longo e Eric Ferri ok ora vi spiego la mia testa contorta sentiamo Paolo Liberani Paolo Liberani è il nome del ragazzo ucciso sul romanzo morto Patrick Longo le iniziali ho capito raga le iniziali PL le iniziali sono le stesse sia del nome che del cognome è vero non è uno raga cioè non è uno ok sentiamo Emanuele Faggiano non è vero perché ho detto Faggiano scusate nome del romanzo Eric Ferri guarda caso anche qui le iniziali sono uguali sono uguali esatto non è che il ragionamento di Debbie non è uno stronzio terzo nome terzo cioè non è una Ilario Giusti cioè ragazzi non è una cavolata il ragionamento di Debbie effettivamente coincidono non è vero il nome del romanzo Ivan Greco Ivan Greco guarda caso le lettere sono le lettere sono uguali sono le stesse e poi Peter Longo e Patrizio Luccherini anche questi i nomi e anche l'iniziale del ragazzo scomparso cioè Patrizio Luccherini che è il nome vero del ragazzo scomparso esatto qua si chiama Peter Longo nel romanzo e anche qua le lettere le leni sono uguali tutti questi ragazzi sia del nome che del cognome coincidono ecco coincidono vuoi vedere che la storia del romanzo effettivamente è coincisa con quello che succede che è successo il romanzo è stato scritto nel 1979 è stato pubblicato nel 1979 esatto non scritto e queste morti di questi ragazzi sono accaduti cinque anni prima venute nel 1974 io adesso non è che voglio fare la complottista ma no però secondo me ci mancherebbe debili anche se tu fossi una complottista ci sono un po' di cose che combaciano cioè non vorrei che tra il romanzo e la realtà ci fosse qualche collegamento forse non lo so Valeria ha preso spunto da quello che è accaduto molto probabile sì molto probabile che abbia preso spunto non lo so raga io so solo che queste coincidenze mi hanno messo i brividi ma anche a me mi sono venuti i brividi anche perciò io credo che devo leggere quel libro ho trovato l'ebook non riesco a leggere dal computer so che c'è una stampante sotto voglio stampare l'ebook ma infatti fai bene ma infatti fai bene perché li devi far vedere voglio leggere a Paolo Gianmarco e Pino perché la trama non mi basta voglio leggere no ma perché secondo me c'è molto di più di quello che sembra sì ma infatti vado a stamparlo raga comunque il ragionamento di Deborah è effettivamente giusto cioè Deborah non è stata assolutamente stupida a fare questo ragionamento ragazzi perché questo ragionamento è effettivamente giusto le iniziali dei nomi dei ragazzi dei ragazzi del romanzo di Valerie e i ragazzi scomparsi veramente negli anni 70 è effettivamente uguale a meno che quei ragazzi suicidati non si siano uccisi per mano di qualcuno e mi riferisco a qualcuno gli spessi un po' di bene mi dissocio nel dubbio perché dice pure il mio editor Gianfranco qualcosa che forse ho se ho avuto perché negli anni 70 già girava però non siamo in quel posto lì allora ok ho capito ho capito ho capito non è vero non è vero ragazzi ho capito guardate la donna questa non è Villa Levine è Valerie Lopez la scritta dietro v.l non è Villa Levine è Valerie Lopez quindi quella lì quindi quella quella casa lì in cui sono Paolo e Debbie Gianmarco e Pimot è la casa di Valerie Lopez raga sono sconvolto i giocchi i brividi madonna sto capendo tutto adesso ragazzi perché c'è un foglio per ok non vi faccio domande dove sono raga ah eccoli mi prego mi prego guardate guarda 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 ecco 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 il mistero svelato è Valerie Lopez Valerie Lopez è quella che ha scritto il libro è il crimen perfetto e scusate ma secondo me è lei la scritta vale rinote ma secondo me Villa Levine può essere non è Villa Levine dove è Paul raga ecco dove è Paolo dove è Paolo dove è Paolo ma non so dove dove è Paolo no ma che è andato fuori Simo c'è la giacca qui è andato fuori ma se c'è la giacca no raga non mi dire ma figurati c'è pure il suo marsupio ma Pimoth adesso se ci sarà la giacca in casa e il marsupio come è uscito così che questi video sono stati registrati a novembre dicembre ci saranno fuori novembre dicembre non so quando sono stati girati però ragazzi c'era fuori un freddo della madonna come come ca... cioè niente raga Paolo è scomparso sarà tua a decidere cosa dobbiamo fare proviamo a chiamare Paolo al cellulare e continuiamo a cercare raga scrivite anche voi nei commenti cosa devono fare o provare a chiamare Paolo o continuare a cercare raga questo video finisce qua raga mi sono venuti i brividi e raga non si sa dove è andato a finire Paolo ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace iscriviti al canale perché ci vedremo non so quando però tenetevi aggiornati con la campanella sempre accesa che tutte daranno tutte le notifiche dicevo che dicevo dicevo porca puttana che questo video che rimanete sempre aggiornati con la campanellina non è accesa e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi che vediamo che vediamo